Io sono Conrad, mi conoscete e anche Aldo lo conoscete. Ciao Aldo! Ciao ragazzi, ciao a tutti. Oggi siamo qui in questa nuova serie. State attenti e fedeli. Attenti e fedelissimi e ferocissimi, perché non è una versione normale di Pokémon, ma è la random lock a versione diamante e perla. Abbiamo io diamante e Aldo. È la farolock, ragazzi, è la farolock. Ti sembra dritto? Sì. È il posto, no? Però a me sembra che sto a Milano, nel bel mezzo di Milano, con tutta quella nebbia sullo schermo. Eh vabbè, è un po' come versione perla Milano. Per la Madonnina. Per la Madonnina. Comunque, non so, penso durante l'ultima regola che ho detto, ho sputacchiato una famiglia di saliva. Ci sta, ma siamo a distanza di sicurezza, siamo a un metro. Ci sta. Perciò te l'ho detto, vi controllo. Ma se no metto la mascherina, eh, se vuoi metto la mascherina. Come vuoi, come vuoi. A me non fa effetto il colpo. Ah, poi... Malgrado di sforzi il team di esplorazione non ha potuto avvistare la realissima Pokémon dello strano colore, il Gyarados Rosso non è apparso nell'ormai velocissimo team. Quindi, in questa non sarà una semplice random lock o cose del genere che già avete visto e stravisto sul sito rosso. Eh, allora...